Ci troviamo a Barge nella sede della Croce Rossa. Parliamo con il responsabile sanitario Alessandro Parizia. Come potete vedere i nostri volontari in tutti i turni in cui fanno servizio sono vestiti per far sì che la protezione sia massima per garantire la loro sicurezza e quella di tutte le persone soccorse. In caso di chiamata per presunto covid, fortemente sospetto covid o covid confermato abbiamo creato un kit che costruiamo noi con delle tute ancora più protettive, le mascherine FFP2 e le mascherine FFP3, visore e tutto quello che serve per garantire la protezione massima appunto per i nostri volontari. La mascherina FFP2 e FFP3 servono ai soccorritori, al personale sanitario, medici, infermieri e chiunque fa assistenza alle persone. Soprattutto quelle pericolose sono le maschere con filtro perché sono protettive verso chi presta assistenza alle persone ma in caso vengano utilizzate dalla gente comune per spostarsi in giro rischiano di aumentare il contagio perché la valvola è unidirezionale, filtra in entrata ma non filtra in uscita. Quindi una persona è protetta in caso di ispirazione ma se già affetta dal virus rischia di spargerlo all'esterno attraverso questa valvola. Abbiamo istituito anche un servizio per gli anziani che sono a casa da soli e che non possono uscire in questo momento di grande difficoltà ed è quello di portare spesa e farmaci a casa. Come fare? Chiamare in sede da noi. Il nostro numero della sede di Barge è 0175 34 62 62 possibilmente in mattinata dalle 8 alle 12 in modo che il nostro centralinista, il nostro volontario vi farà avere tutte le delucidazioni del caso. Volevo ringraziare i nostri volontari perché sto vedendo che si stanno veramente dando da fare, aiutare perché tutti abbiamo paura sia io e credo anche loro. Ciao mi chiamo Nicola, sono un volontario da tre mesi più o meno e qui siamo protetti quindi andiamo avanti senza paura. Sono Teresina, sono una volontaria della Croce Rossa e mi occupo con altri miei colleghi di fare la spesa a chi non può uscire, agli anziani e portare medicinali. Ringraziare sia la popolazione sia le ditte, ma qualunque, veramente di cuore ringrazio per le cose che ci hanno donato, continuano a donarci e abbiamo delle ditte qua che giustamente si danno veramente ma veramente da fare per reperire del nostro materiale. In questo momento difficile per tutti noi, vi chiediamo di restare il più possibile a casa per prevenire la vostra e la nostra salute. Noi qualunque cosa che avete bisogno ci faremo in quattro per riuscire a fare tutto, ma voi state a casa. Se tutti facciamo la nostra parte riusciamo a contenere l'infezione da virus e quindi si riuscirà pian pianino a tornare alla normalità.